sui concerti, tante volte abbiamo fatto tante cose con le sue canzoni, con il suo le sue canzoni sono state per noi ragazzi della mia generazione e di qualcuno più anziano di me sono state le colonne sonore di tanti momenti magici della nostra giovinezza e ancora oggi ci allieta le nostre serate, i nostri momenti di emozione voglio passare il microfono al maestro, ho detto tutto, vi ringrazio tutti per essere stati qui grazie, un abbraccio fortissimo a tutti grazie, buonasera, tanti auguri a Venturino io non avendo l'orchestra, mi faccio dire 4-5 brani che ho sulla base sicuramente è la prima canzone, spero che qualcuno di voi se la ricordi scusate oh, che c'è, eh nessuno da conoscere qua a me ho già che mi l'ho dito da quando ti ho detto che sono matto, c'è paura di qualche mia mazzia magari è più pronto, va via ma da mia, dove? mi l'ho dito ti ho detto mi lasciare mi lasciare mi lasciare ma io mi lasciare mi lasciare ma io non so il microfono ma io che ho fatto mi lasciare vi li lasciarlo ti ho raggiun Signore, mi innamoro di te, sei noto di me, lo faccio a portare, non proprio non sta solo, non sta solo, ma non è un libro, perché non può parlare, ma è ancora molto bene. Signore, mi innamoro di te, non devo parlare per me, mi serve l'emozione, come mi serve il pane, stavolta c'è l'amore, io metto a vita, per non la trabora, ma non è un libro, signore, mi innamoro di te, sei noto di me, sei noto di me, sei noto di me, sei non c'è la rosa, di essere bella giusta senza sforzare il giallo però di me se non è più male se non è più male